Penso che in certi frangenti ti senti anche più coperto perché comunque con il centrocampo a tre il mister voleva che le mezziali si inserivano molto di più, invece adesso col centrocampo a due devono rimanere un po' più davanti alla difesa a fare schermo. Quindi per un verso ti senti anche più coperto, nonostante che c'è un attaccante in più, però i centrocampisti sono chiamati più a un ruolo di schermo, di copertura. L'Aquila non è che è sempre portato bene, però penso che non credo a queste cose, quindi dobbiamo andare lì e fare una grande partita perché ogni partita, ogni derby è una partita a sé, quindi penso che abbiamo le carte in regola per fare una grande partita e mi auguro che la possiamo fare. Adesso noi abbiamo bisogno più che mai di fare punti perché la classifica io non la guardo, però mi sembra che non sia un granché e quindi bisogna fare punti per recuperare perché comunque io faccio fatica a vedere il Teramo giù, quindi bisogna fare punti assolutamente.